come avete fatto questa macchina senza acqua? come dobbiamo fare? manca delle riserve però tenga presente che manca delle riserve stamattina si deve arrangiare una bottiglia di sciacquare ma chi vi ha detto che qui c'era l'autoclave? no ce l'hanno portata verso le 9 e mezza è venuto un ingaricazzo dall'acquadotte e hanno detto che potete prendere l'acqua e adesso invece? adesso no e come dovete fare? adesso vedete vediamo cosa dobbiamo fare? quindi oggi niente doccia? niente doccia stasera praticamente da questa mattina l'assenza dell'acqua ci ha impossibilitato di preparare caffè e tutte di solito diciamo le bevande che noi somministriamo qui come caffetteria ci ha impossibilitato di lavorare costringendo molti clienti ad andare altrove e andarsene grazie a tutti grazie a tutti